Qui sono andati a letto tutti, io sto finendo di selezionare alcune foto, modificare alcune foto che ho fatto oggi Come sentite la voce non è ritornata, forse anche peggiorata I video che avete visto sono quelli di due o tre giorni fa, un mix dei giorni scorsi Ma volevo darvi la buonanotte così e sono passato in farmacia a prendermi tutte le medicine E dai speriamo di ritrovarla domani, buonanotte Passa via? Eh, via! Via 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 Non toccare, eh! Cosa fai la mamma? Non toccare! Non toccare! No! Ma no! Rispettoso! Cosa fa Gnomo? Dov'è? È nella doccia? È nella doccia Gnomo? Occhio che scivoli! Dai vieni fuori! Ciao! Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti